Il 31 ottobre è a Salerno la prima tappa di un percorso di educazione finanziaria organizzato da Consobe, Fede e Terziario che si terrà in tutta Italia. Un progetto molto interessante, aperto agli imprenditori e dai professionisti. Oggi ne parleremo con il padrone di casa dell'appuntamento del 31 ottobre, cioè con il presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete. L'ottobre intanto in Camera di Commercio, Salone Genovesi, Via Roma, avremo questa bellissima iniziativa promossa da Consobe, la prima in Italia di 14 di un tour molto più ampio sul territorio nazionale, finalizzato a dare l'opportunità alle piccole e medie imprese del nostro territorio di conoscere gli strumenti alternativi a quelli che sono il credito, così come inteso normalmente, che si ha dalle banche, piuttosto che non averlo attraverso strumenti innovativi. Questo credo sia fondamentale. È un approccio nuovo dove le imprese avranno modo di conoscere strumenti che non conoscono e che potranno in qualche maniera essere di forte supporto alle loro attività. Siamo in un periodo in cui l'accesso al credito non è semplice per tante realtà e noi crediamo che invece dare delle opportunità alternative sia assolutamente indispensabile per dare quella linfa vitale che l'economia del territorio necessita per poter continuare a crescere.